Ciao, io sono Jessica, sono al villaggio e questa presidizione mi mette abbastanza in crisi perché non ho la minima idea di cosa dire e quindi vi auguro un buon giro e grazie. Buongiorno, sono Samantha, oggi si perdeva l'arrivo, primo anno di Stato d'Italia, una squadra bellissima, speriamo che sia così, e qui in Comedi non è caldo ma c'è tutto bene, perché adesso torniamo con qualcosa. Buongiorno! Ciao, io sono Seria Stefania, lavoro con la Skoda da due anni, come vedete stiamo facendo partecipare la gente che viene su a vedere il giro a un concorso per la stazione di una Skoda. Cosa dirvi, sono contenta di questa esperienza e sono contenta di lavorare con tutto il team della Skoda, della Lauta e niente, devo correre quindi un bacione. Grazie mille. Non ci faccio la butta fuori. grazie mille. Sì, ma che cosa faccio dire? Cioè, come ho detto 2 sì? E lo sapevo! Si ma, non sapevo! Non si può, non si può! Non si può! E beh, vai! Non si può neantirà! Non mi vuole dire il podcast con i carincons. Non è che è più vero! Se ci vuole, è il settimo gioco! Oh yeah! Vedi che si può stretchare! Ma sai che cosa è? Oggi sbagliava! Belli, belli! Bene! Buonissimo. Ragazzi, si va? No, dai! Eh, non sono che ci sta meglio qui, eh. Grazie. Vieni, stai confermi, stai confermi, dai. Via, domani. Non ci via. Ciao.